C'è qualcosa che non va. Cosa ci fa un geroglifico egizio in America del Nord? Come ci sono arrivati i geroglifici egizi in Australia? Come ci sono arrivati vicino al lago Titicaca? Geroglifici egizi perfetti, no? Quasi uguali. La scienza ufficiale sarebbe costretta a pensare che gli antichi egizi avessero girato tutto il mondo, ma gli antichi egizi abbiamo dimostrato 30 secondi fa non ci sono mai stati. C'era qualcun altro che è andato in Egitto e che ha costruito le piramidi. Così come qualcun altro nello stesso istante è andato in Sud America, nel Nord America, in Australia e ha costruito in Nuova Zelanda, in Cina e ha costruito le piramidi. Perché erano monumenti che servivano per ridare la vita a chi comandava. Alla elite di quella strana razza, donicocefala, con il cervello, col cranio allungato di cui oggi troviamo tracce, guarda caso, scheletri in tutti quei posti in cui troviamo le piramidi, troviamo il fattore RH negativo.